E questo è un effetto dove mi servite tutti e tre Ok? Mazzo regolare Quadrifiori, quadripicche E vi do un po' di carte ciascuno Ok? Così mi hai aiutato a mescolare Ok, questa a te Questa a te E quale vuoi? Mazeta qua, ti faccio mescolare anche il mio, dai Ci sei Max? Ah, proprio così Ok Et voilà Et voilà, ci siamo Adesso vado a stendere il mazzo di carte Così davanti a voi E quello che andremo a fare è questa cosa Io sarò girato e ti chiedo Max di togliere un po' di carte dalla cima Un massimo di 8 carte, hai stinto eh? E le metti sotto Ha di essere una cosa istinto Fatto Le hai messe sotto? Guarda Laura, tu voglio che le togli dal fondo Ok E le metti sotto Fatto E guarda, a te chiedo di toglierle dalla parte centrale del mazzo Ok? E non togli le carte Sì, è un po' di 8 carte All'incirca eh Non di più Perché se no poi Ti servono le carte Fatto? Metti sotto Ok, guarda Io vi do tre post-it Uno Due E tre Vi chiedo di contare le carte Ok, questo lo mettiamo qui Qui chiudiamo Vi chiedo di contare le carte E di andare a scrivere su quei post-it A turno Io sarò girato Il numero delle carte Ah, un'altra cosa importante Poi legate il fogliettino così Non devo leggere nulla Ok Ma fate l'umore che potrei sentire anche il suono Ah, sì E per una letta Riconoscere Eh sì E direi che ci siamo Ci siamo? Sì Eh, guarda Max Ora io Devo andare a toccare il mazzo rimanente Devo prendere le mani Ora siccome potrei capire quante carte avete preso Indicativamente Ti chiedo di prendere questo mazzo Di andare a contare uno a uno sul tavolo Ventisei carte In maniera tale che rimanga solo metà un mazzo Quindi fallo pure Ah, quanti sono? 26 Ci siamo? Yes E quelle che rimangono Mescolano con le tue a sotto Tranquillamente Ok Posso girarmi? Ok Ah, perfetto Ora guarda io semplicemente prendo questo mazzo in mano Lo prendo così E cerco di fare Una previsione Ok Ci provo eh Andrò a scrivere anche qualcosa su un post-it Non volevi essere da me Eh no Sto non è copiato da me Allora guarda L'ho scritto qui ovviamente Lo lasciamo Faccia in basso Ok Così A questo punto Tu Max hai preso all'inizio le carte dalla cima del mazzo Guarda si metta Guarda Mettile pure sotto Ok Così invertiamo l'ordine Tu invece Laura Le hai prese dal fondo del mazzo Guarda Mettiamole al centro Ok Ok A te Che le hai prese dal centro invece Le faccio mettere in unico posto rimasto In cima Ok Ovviamente Ok ci siamo Ora andremo A guardare I valori scritti sui vostri foglietti Aspetta a farlo Vi voglio far notare una cosa E vi dico prima quello che succederà Faremo la somma Sì E andremo a contare esattamente tante carte Fino ad arrivare a quelle che corrisponde alla vostra somma Quindi Girate pure i fogliettini Mostrateli Sette Un tre E un cinque Sette Tre E cinque Tutti dispari Tutti dispari Ora la somma Fa Quindici Quindici esatto Allora la cosa che vorrei farvi notare È che è vero che la somma sarebbe comunque differente Se per esempio tu avessi preso un set E tu un tre Sempre quindici avrebbe fatto Sì Ma la cosa è veramente interessante È che avete messo le carte in punti diversi del mazzo Oltre a averne preso in punti diversi Quindi avremmo sì avuto Un totale di quindici Ma chiaramente sarebbe cambiato tutto l'ordine del mazzo Perché te l'hai messa in cima E l'avessi messa in cima Tre invece che sette Sì E te in mezzo Quindi cambia totalmente tutto Giusto A questo punto Ti chiedo di prendere il mazzo Sì E di andare a contare Fino alla quindicesima carta Uno Due Tre Quattro Cinco Sei Sette Otto Nove Dieci Unici Dovici Tredici Quattordici Quinti Ora guardo una carta Più una carta meno Cosa sarebbe successo Per esempio Il dieci di fiori Possiamo continuare a guardare anche le altre carte Sì Però io Qui Prima di sapere i vostri valori Ho scritto Una sola carta Beh andiamo a vedere cosa ho scritto Ho scritto Due Di quadri Spero si veda Due di quadri Ora sarebbe incredibile Se qui ci fosse proprio il due di quadri Andiamo a vedere E qua Che voi ci credete o no C'è proprio Un bellissimo Due Di quadri Credibile Credibile Brava ragazzo Per Grazie a tutti